Ciao, sono Alessandro e vivo in Giappone. Da qualche mese pubblico video su questo fantastico paese che mi ospita. Non si tratta di video educativi, culturali o turistici. Non farò mai un video su come usare correttamente le bacchette, imparate da soli. Né sulla storia dei manga, leggeteva la sua Wikipedia, né sulle bellezze di Kyoto, andate a visitarla. Quelle che racconto sono storie di vita vissuta, a volte imbarazzanti, a volte buffe, a volte sensuali. Non so se interessanti, sarai tu a deciderlo, ma sicuramente uniche e originali perché sono capitate solo a me. Insomma, quando faccio un video mi metto in gioco. Se vuoi giocare con me, continua a seguirmi. Ikibashou! Ciao!